Buonasera, due parole su questo panel perché abbiamo deciso di farlo. Siamo in una, devo dire che in tutte le slide che ho sulle recensioni c'è sempre un'intervista del direttore Fausto Arrighi di qualche anno fa sul giornale in cui si parlava un po' del rapporto tra il guest rating legato alle recensioni pubblicate online e le guide, è stata un po' una matrice che negli anni ci siamo portati avanti per cercare di capire qual è il rapporto tra il valore percepito degli utenti nel momento decisionale di acquisto nel caso dei ristoranti, tra il modello classico che prevede la guida enogastronomica di riferimento e l'app, il cellulare, il mobile, il sito che ci dà informazioni rispetto alle recensioni degli utenti. Abbiamo poi voluto aggiungere un altro media, l'abbiamo definito, che è la comunicazione in un caso di eccellenza, un ristorante che ha partecipato ad un noto programma televisivo di competizione fra i quattro ristoranti perché all'improvviso la televisione entra in un settore dove siamo pieni di programmi di cucina ma i giudizi sulla qualità dei ristoranti sono una cosa diversa, entra questo format, ha un notevole successo, contrariamente ai quattro hotel che vedo più complicato per mille motivi, ma invece sui quattro ristoranti sta andando molto bene e allora ci interessava capire che effetti ha prodotto la visibilità di un programma di questo tipo e se un nuovo approccio alla narrazione, alla qualità della ristorazione possa ritenersi interessante e in che misura. Partiamo anche in questo caso da qualche slide che ci racconta TripAdvisor perché lo dico da come dire, persona si direbbe appassionata della materia, è vero che in questa nuova fase di TripAdvisor la situazione sta diventando un po' più di forte competizione sulle recensioni alberghiere di ospitalità con i grandi player, ma sono invece, continuano ad essere l'assoluto leader in due settori che sono la ristorazione e il che cosa fare, dove peraltro la partita si gioca prevalentemente in un momento diverso della pianificazione del viaggio, cioè nella fase prevalentemente in travel, durante l'esperienza, da mobile, around me, quindi con criteri assolutamente diversi di analisi rispetto alla selezione della destinazione e alla pianificazione di viaggio. Non c'è una ricerca definita però non so quanti prenotino quattro mesi prima venendo in Italia in un ristorante, è molto più probabile, ho visto le vostre slide anche rispetto al mercato domestico, gli italiani sono gli italiani e che si decida la sera dove si vuole andare a mangiare. Cosa diversa ovviamente è se utilizzo come strumento prevalente la guida turistica e non gastronomica, in questo caso il dottor Arighi è stato direttore della guida Michelin, quindi per molti la bibbia del viaggio, oppure si è visto uno spettacolo televisivo, si va in quel luogo e si diceva perché non si va a mangiare in uno di quelli che magari ha vinto o non ha vinto o comunque ha partecipato, mi piaceva che tipo di approccio ha avuto e così via. Quindi mezzi diversi di promozione in questo caso legati agli standard qualitativi e così anche con la guida mascherata con il collega Visintin ragioniamo in questo caso dell'approccio qualitativo della recensione perché qui tocchiamo un tema delicatissimo che era il fulcro dell'intervista a dottor Arighi e cioè perché uno in qualche maniera si lancia a dare un giudizio enogastronomico non sempre avendone le competenze, è affidabile, non è affidabile, le analisi ci dicono che è ritenuto affidabile, la gente le recensioni, le legge, se no trip advisor peraltro dovrebbe cambiare lavoro, quanto ci sia di sintonia tra quel che si legge e quello che poi si trova o si vorrebbe trovare, questo è un ragionamento tipo diverso. Io vi dico una cosa molto banale, ovviamente le leggo le recensioni, le leggo molte, nel caso dei ristoranti per me è dirimente nell'ambito delle immagini che vengono pubblicate dagli utenti che sono orribili sui piatti perché il cellulare fa delle foto agghiaccianti del food, sono invece utilissime i menù e gli scontrini del conto perché mi danno un'idea molto chiara di che cosa potrò andare a mangiare e di qual è il livello di spesa media che posso andare a affrontare, due argomenti che raramente trovo in altri fonti, non sono molti i ristoranti che hanno un sito con il menù pubblicato, molto di meno sono quelli di cui è chiaro più o meno sul modello invece francese, prezzo trasparente, il pranzo è quello, la cena è quella, da noi sapete che si entra un po' in un fumus non sempre facilmente interpretabile, se poi uno viaggia con bambini quelle formule misteriose italiane al consumo, al pasto, alla quantità, nessuno sa che cosa vuol dire, nessuno riesce a fare programmazione, le recensioni, le pubblicazioni delle foto da parte degli utenti servono anche a colmare quel tipo di attenzione oltre ovviamente al locale, gli standard, i tipi di apparecchiatura, il tipo di cucina che vado a incontrare. Quindi io chiederei ad Amanda Booker per la parte di TripAdvisor una presentazione alla loro piattaforma, mi sembra che ci sono 334 milioni di recensioni, 730 milioni di recensioni e opinioni, sì, e riceviamo 256 contributi al minuto. Le ultime slide che ho fatto vedere 20 giorni fa le devo aggiornare perché io ero arrivato a un miliardo di recensioni censite nel turismo, se voi ne avete 734 mi sa che devo rivedere un attimo i numeri, ma per chi come me quelle slide le aggiorna la cosa che veramente mi colpisce è una crescita assolutamente inarrestabile, loro sono un caso, ma pensate a Google come sta crescendo numeri incredibili, booking come sta crescendo nell'ambito hotellerie, il totale e la somma che non è per nulla semplice del numero delle recensioni pubblicate a questo punto è decisamente superiore al miliardo e come dico sempre sono un miliardo di persone che hanno dedicato un po' del loro tempo a raccontare la loro esperienza, quindi intanto il massimo rispetto a quell'impegno lì. Poi ragioniamo sugli standard qualitativi e su che cosa si è detto e di come la televisione o le guide stanno in questo nuovo equilibrio generato da la pubblicazione delle recensioni. Prego. Hi everybody. I'm terribly sorry, beyond everything, that I am not going to be speaking Italian this afternoon. I do not want to subject any of you to my Italian, by the way, so I'm very, very sorry. I actually am really embarrassed about it, so please forgive me for being so rude as to not speaking Italian. Why am I here? I think one thing I wanted to say before I even started the presentation was that I am in no way, shape or form trying to say that you should or shouldn't choose one methodology rather than the other and I think that TripAdvisor is a methodology and I think that we are a methodology of which you can use to accompany others by itself or continued. I'm trying to change slides by the way. Okay, sorry. It's very hard here to try and read and look at it at the same time. So, I'm I think one of the most important things for what is the Italian audience, because here I'm purposely here to speak more about Italy than I am about the global restaurants, but with Italy one of the really important things is the fact that we have almost 14 million key visitors. That's one of the largest sites. I think that's really, really, really important and it's used. This is just not by diners, by the way. So, this is one of the general numbers. However, it's growing and growing every single month, just as our colleague just mentioned here. He couldn't get the number from a few weeks back and now it's a different number. And I'd like to mention the fact that we have about 490 million downloads on our application. So, it's growing. People are moving and they're getting into the look and feel of being a part of a community. And I think that's important. TripAdvisor's restaurant history. It's not as old as the hotel history. That's absolutely true. It's a, I would say, a journey that has happened organically. So, it came out of the fact that people wished to grow their travel journey and grow along where they wanted to have part of their voyage and what they wish to speak about. And that's where TripAdvisor restaurants were born more around in the year 2000. And from then we started a growth. The growth was more or less, I'd say, I think 2014 with the purchase of the La Fourchette Group made a real statement on what TripAdvisor wanted to offer the world. And then there was other future acquisitions in the year 2015 where we grew into the Italian market more specifically, which would be interest to this market. There were further products added along the way. And I'm not going to go into any of the specific details because they're probably not really significant for most of you. But the actual idea around it is the fact that at the end of the day, we started to realize that restaurants had a real voice and we wanted to be able to give them that voice. And we wanted to show that we're supporting that journey, as you can see, along the way. So, we increased, obviously, our ability to give you the ability to reserve. We also increased our deliverability of the products that we had on the line and our partnerships with all of you. So, those are some impressive numbers. I'm going to take the mic because I really can't stay still. I'm sorry. So, 200 million. 200 million sounds enormous. That's 200 million average monthly visits to a site. That is insane. That is just insane when you think about it. On 49 markets worldwide, 420 million app downloads, which I mentioned before, and 4.9 million listed restaurants in the world. That's crazy. That means we are probably one of the largest restaurant sites in the world. That's insane. The reality is, it's also owned by each and one and every one of you because it's the people who populate the site and the owners who populate the site. That is the power of the site. It has nothing to do with anything else other than people wanting to search and discover and share their discovery and their search, and also good food, which I obviously very much love, everywhere. TripAdvisor diners. So, I think one of the key things that people don't realize is, and when I speak don't realize, I mean a lot of owners, I think they have the sensation that people are just going to go on the site and they're just there to critique. They're there to say, my mother's spaghetti is better than your spaghetti, my lasagna is better than your lasagna, and so on and so forth. That's not true. The reality is that 93% of people share positive experiences on the site. That's a very powerful figure, just so you realize. How many of your friends, when you think about it, do you agree 93% of you and your friends on something? Probably not. So, it's quite powerful, that number, 93%. It's also quite powerful, I think, the thing that people say, when I looked at the site and I read the comments and I read what was going on, 89% of people said that it matched what they thought. So, that means that when they went through the experience, they thought about the experience, and they read all the different types of reviews, not just the good ones, not just the bad ones, they formed their own opinion because they listened to a voice that was important to them. It's very important because your voice is not the same as my voice, my voice is not the same as your voice. They listened to a voice, and they made their opinion from a collective purpose, okay? If I'm speaking too fast, just dance or wave your hand or something. Sorry. Back to Italian restaurants, because that's what I know you guys are really interested in. So, I'm not sure if everybody understands how TripAdvisor works. TripAdvisor works with a bubble. So, there are these little bubbles, these little round bubbles, and that's where the score comes from. And they go from one to five. So, one being probably not the smartest and greatest experience, and five being absolutely fantastic. And I'd just like to share the fact that in Italy, Italian restaurants have pretty much remained the same for the last three years. As you can see, the average score for international users is higher than that of the Italians. So, it's very clear as well that those Italians who are going out to an experience within Italy are slightly more critical than the international travelers. That's probably because they already know what they want the tiramisu to smell like and taste like and be like, and they already know what the pasta should feel like and what consistency, whereas myself, probably not. I probably think it's all fantastic. Who knows? I don't know. It all is actually pretty fantastic. So, that's some interesting data. The annual scores. So, the interesting thing here is the average annual scores is about 14, sorry, 14, 4.19. That would be the average. And it's interesting, actually, in the late spring, people get the best scores. And when we're traveling, I don't want to say that it's with your kids, but I can guarantee if they're anything like mine, it's highly probable. When you're traveling with your children in the month of August when everybody's off on holidays, we're more critical for some strange reason. It's very strange, but it's true. And it actually happens in the domestic market as well. If you see here, the average for domestic scores is lower. As I mentioned, it's 4.3 out of 5. Remember, the index is 5, so there's still very high numbers. The reality is that, again, when we're traveling, I don't know whether it's because we're bringing the family along and we normally, when we go out with our girlfriends, we feel more appeasable. I'm not sure. But the reality is that the score is lower in the month of August again. Okay, what does this mean? This is the restaurant score. So those are the scores I was just speaking about now. But this is per region in Italy. And I thought you guys would find this interesting. Why? Because we happen to be in Tuscany right now. And strangely enough, and I swear I did not have anything to do with these numbers. These are a statistic. Tuscan is rated one of the highest regions. So people are absolutely loving this area. And they absolutely love their experience. I thought this is very interesting to share with you. Lombardi, unfortunately, it's not bad. Don't get me wrong. It's almost a 4. But hey, Tuscany is doing pretty great. Some more data. This is very interesting. So what does this slide mean? This slide means that, as I just mentioned before, in your domestic market, the average is 4.3 out of 5. That means an Italian going out to somewhere in Italy. However, our friends from Spain, when they come to visit our restaurants here in Italy, they mark us at 4.4. So they're slightly nicer than the Italians. But then our American friends, I'm Canadian, by the way, in case anyone wanted to say I can say something against the Americans. Our American friends, they all are actually the most generous in their markings. Canada's not on here. I have to make a formal complaint. I don't know why. So it's quite interesting. So it's very interesting to see. Of course, this is not based on volume or anything else. So everything's relative. But it's just very interesting to see the difference of those who travel and how they value us and how it's compared to different markets. Ah. So grab potential diners attention. This is actually quite interesting. So, oops, sorry. This is my number. I have to go into these numbers here because I found this is really interesting. I just found this out this morning, by the way. So this is fresh data. We did a survey of 9,500. 9,500 people from a few different countries. Not too many. Italy being included and one of the largest. And 91% of Italians interviewed said that they chose to eat at a restaurant after seeing TripAdvisor scores, reviews, rankings or awards. So that's the first part. But the interesting part also was the vast majority of Italian respondents, 93% of them actually, stated that online reviews influence their choice of where to eat. Very interesting. So not only were they basing their decisions on the TripAdvisor experience, whether it be the rating, the review or whatever, within the community that they chose to look at to influence their possible decision. But then afterwards, those who acted on that influence, which is quite interesting, actually. So, I get asked this in a lot of conferences. They're always like, well, TripAdvisor International, TripAdvisor is all about travel. TripAdvisor, you're coming to me and speaking to me in English and you're going to talk to me about all the different travelers that are going on. The reality is that 45% of those people going to your restaurants here in Italy are, in fact, Italian. So you have to take care just as much of your national market as you do your international. And it also means that TripAdvisor is highly relevant, especially in Italy, to your local market. It's very interesting, actually. It's only the Brits that gain you there. So, what does TripAdvisor do to work within the Italian community and actually work within, I would say, the greater good of restaurants and trying to protect their interest and trying to give them a voice and trying to give them, I would say, a platform to feel equal and to level the playing field because that's very, very, very important to us. I hope you understand that. That's our purpose. And one of the things is to work with the Association FIBE in a very strong collaboration, actually, that Valentina here sitting beside me, who does speak Italian, so she'll be able to defend herself afterwards quite nicely to the crowd. She's been working very, very strong with them since 2014, actually. And what have we done because of that? Well, we've created chains of communication. They have a direct line now to an entire team of people who are looking out for their best interests, including customer support, including training. We go on and we train them on how to use the different products, all free. I'm not trying to sell anyone anything, and how to get the best out of all of these optimized products. What else happens? We work together on road shows, we work together on activities, and we've even gone on global trips to London with them. I think one of the largest achievements was the fact that with the collaborative gathering of information from FIBE, they sat down and they said, listen, guys, it's not okay to index on the same page in the same way. A quick bite, so what does that mean? A restaurant where you don't necessarily have to have a reservation or you have to sit down, and perhaps a donut shop or a restaurant or a gelati at the same place. I think that users and restaurants would very much appreciate if you separated out those sections and caused a clear pathway or view for users as to their dining experience and what they wish to choose. It was because of FIBE that we did make this change, and it was then implemented globally, but the initiative came from Italy and it came from the relationship with, actually, Valentina and FIBE. So we do listen, we do change the product, and we do adapt because it is there to level the playing field. It's there for a tool for everyone to use. It's not there for any other purpose. How can I get the most out of TripAdvisor, you ask? Well, it's really actually quite easy, and in no way, shape, or form does this cost anyone any money. Let me be clear. And also, let me be very clear, if you choose to sign up to the TripAdvisor page and you decide to claim your page, it's completely free, you can showcase your brand, you can respond to reviews, you can see your performance, and you can access pre-promotional tools. But what you cannot do in any way, shape, or form is influence the index. In signing up, you'll become my new friend. I'll be there to help you. I will not in any way, shape, or form have any hand on helping you remove, modify, change the POP index in any way, shape, or form. That needs to be very, very clear. That is 100% done by the community, and by the interest, and by your reviews, and all of what is the essence of TripAdvisor. And that does not modify if you choose to purchase products or if you choose to remain on the free platform. And with that, I'd like to say thank you very much, and I'm so sorry for not speaking in Italian. Thank you. Thank you, thank you, thank you so much. Thank you very much. non è che dobbiamo ragionare molto sono contento che siano passate una serie di piccole modifiche soprattutto sulla differente tipologia dei nostri ristoranti perché mettere insieme pasticcerie paninoteche, pizzerie, gelaterie insomma era un po' confuso, adesso si può selezionare insomma forse credo anche l'ingresso di De Fork, un po' di cose le ha sistemate in temi di avvicinamento allora, dottor Arrighi allora interessante quello che abbiamo visto questo è un lavoro che noi abbiamo iniziato a fare nel 1956 cioè il primo anno che siamo usciti con la guida nel senso che i dati che ricevevamo da parte dei nostri lettori venivano analizzati in profondità nel senso si andavano a individuare i vari settori che può essere accoglienza, servizio, cucina vini e quant'altro e si trasformavano in una simbologia che poi trattavamo noi quando si andava poi a visitare una struttura sia che fosse già segnalata sulla guida quindi cioè non è una novità la novità è che questo è il nuovo che avanza quando quando sono quando è iniziato questo discorso di Michelin nel mio paese c'erano sette macchine ecco vuol dire che insomma siamo antichi se vogliamo la differenza sostanziale ad esempio tra una guida e un sito come TripAdvisor è che la guida fa una selezione in base a una logica di mercato si cerca di segnalare dalla trattoria al ristorante di lusso questo è in generale quello che fa una guida perché bisogna dare una fascia di ristorante di prezzi che sia interessante per una clientela diversa dalla sera si può fare il gourmet a mezzogiorno si va a mangiare nella trattoria tradizionale in effetti poi sulla guida Michelin l'80% dei ristoranti sono trattorie o ristoranti di gestione familiare ecco si guarda sempre poi i ristoranti stellati o quelli che hanno una indicazione particolare ma la maggior parte è una che è tipica del nostro paese poi questo è il nostro il nuovo è questo il nuovo è dare la parola a tutti nel bene o nel male senza che ci sia un filtro ecco le guide fanno un filtro in questo e questo è la differenza sostanziale però bisogna adeguarsi oggi penso che qua dentro ci sia il 95% delle persone che oggi hanno un telefonino anche qua dentro questo è il nuovo ormai forse il 100% forse il 100% ecco quindi quindi chi legge chi legge il mercato si comporta attraverso questo miglio noi ad esempio in un certo momento siamo stati obbligati quasi ad aprire un sito che poi è gratuito dove si accede ai ristoranti di tutta Italia quindi è stato un lavoro enorme anche un costo mostruoso per un'azienda che fa tutt'altro prodotto però bisogna adeguarsi al nuovo che avanza questo è in linea di massima quello che è quello che era il passato e quello che può essere il futuro ecco tra i dieci anni probabilmente cambierà tutto è abbastanza probabile Visentin un altro punto di vista da parte di un'autorevolissima guida in questo caso di ristoranti enogastronomica rispetto a questo mondo che succede il vostro ruolo qual è? il nostro ruolo non esiste perché la critica gastronomica in Italia non è mai nata ho avuto diciamo dei prodromi delle aspettative che sono state create da Edoardo Raspelli e insieme a lui da Cesare Lanza che era il direttore del Corriere d'Informazione che ha dato il via a una rubrica di vera critica gastronomica prima di questa coppia di inventori di questo mestiere in Italia c'erano dei divulgatori c'era Veronelli Mario Soldati magari nomi che alcuni di quali non vi diranno molto però insomma sono stati dei pionieri del racconto del cibo in Italia ma non erano dei critici gastronomici dopo Raspelli non c'è stata la critica gastronomica perché veniva considerato un lavoro di serie B dai giornali che affidavano questo compito a chi? ai giornalisti sportivi i quali avevano già un budget che serviva per andare in giro al seguito del Giro d'Italia o delle partite di calcio e quindi come secondo mestiere già che erano lì facevano anche delle recensioni ma ovviamente quello non era un mestiere vero non era un ruolo diciamo ufficiale coordinato e comandato da delle regole era soltanto un lobby di molti giornalisti sportivi tra cui non so Brera oppure in tempi più recenti Gianni Mura poi sono nate le guide le guide che sono nate con le contraddizioni che inevitabili che queste guide hanno perché monitorare un territorio come l'Italia dove adesso ci sono circa 200.000 esercizi commerciali dedicati alla ristorazione è impossibile ma via via questo peccato originale cioè la pretesa di monitorare un territorio sconfinato è diventato la scusa per violazioni di regole deontologiche continuate quindi il problema è diventato non tanto la competenza ma la reputazione perché le guide in realtà in Italia non vendono più niente come forse saprete credo che siano quasi tutte i moribondi le principali guide italiane non hanno certo non godono di buona salute perché hanno perso la reputazione perché si sa che ci sono compromessi perché si sa che parlano bene soltanto di alcuni ristoranti vengono premiati soltanto gli amici degli amici spesso è così si suppone che possa essere così non si ha fiducia in quello che si legge e questo è il principale problema di una professione che non è mai nata che non ha mai seguito delle regole univoche e che non si è mai data quella stretta rigorosa che avrebbe dovuto adesso io vedete molti di voi non sanno chi sono però io lo devo spiegare sono vestito così perché perché io penso ma sono convinto che si possa recensire un ristorante soltanto se si va senza essere riconosciuti perché altrimenti godremo di un servizio di favore del resto fanno così anche gli ispettori della guida Michelin o perlomeno dicono di fare così perché invece Lovrinovice recentemente mi ha detto che non è esattamente così il loro incognito a volte viene violato fatto sta che nelle occasioni pubbliche mi vesto in questo modo per poter andare a disoperto e con un nome di fantasia nei ristoranti che devo recensire così vivrò la stessa esperienza che vivranno i clienti anonimi di quel ristorante e i lettori del giornale per il quale scrivo ma questo non lo fa nessun altro io ho visto ho cenato al fianco di alcuni illustri i miei colleghi è paradossale quello che accade a loro perché vengono serviti e riveriti come dei principi una volta mi ricordo da Berton il ristorante di Milano io ero lì come cliente in incognito ed erano scomparsi tutti i camerieri e aspettavo che mi portassero almeno il menù non mi arrivava niente perché perché erano tutti impegnati a servire le due persone che stavano arrivando cioè Enzo Vizzari e Fiammetta Fadda Enzo Vizzari è il direttore della Guida dell'Espresso e Fiammetta Fadda un'altra nota critica gastronomica e che cosa racconteranno loro ai lettori un'esperienza marziana ecco siccome si fa purtroppo così nella prassi tutti fanno così è meglio sottolineare come faccio io che bisognerebbe fare diversamente e ridare dignità a un mestiere che ha perduto reputazione dignità credibilità e anche lettori allora io vorrei sentire a questo punto il punto di vista di un ristoratore perché lei diciamo è qua soprattutto per testimoniarci che cosa succede se si accetta la sfida di entrare in un altro strumento che nulla c'entra con le guide nulla c'entra con le recensioni online ma che riguarda un programma televisivo un'altra cosa però poi come ristoratore ipotizzo che abbia delle recensioni forse anche in qualche guida quindi se ne viva un po' tutti questi strumenti sì grazie dell'invito sì sicuramente il mio ruolo qui è duplice io sono un giudicato da questi signori sono presente sulla guida Mislaine sono presente su altre guide della tipologia ma sono anche lo dicevo prima un giudicante perché poi io svolgo anche la professione di sommelier di regustatore professionista e mi occupo di recensire a mia volta delle aziende vinicole sono responsabili della Lombardia della guida dei vini di Slow Food si chiama Slow Wine quindi io ho questo duplice ruolo e questo chiaramente lo vivo in maniera abbastanza particolare poi c'è anche da dire che probabilmente ci sarebbero moltissimi ai colleghi che vorrebbero essere qua oggi perché sapete benissimo che per i ristoranti TripAdvisor è il male assoluto è il nemico da combattere a detta di tutti perché perché ha dato voce a chiunque ha dato voce ovviamente non c'è un nome personale ma questo mi piace dirlo ha dato voce a chiunque ha permesso a chiunque di esprimere un giudizio quello che diceva prima il dottor Arrighi non c'è più un filtro e quindi la grandissima differenza che c'è tra la critica gastronomica che se anche non esiste di una volta e di oggi è che una volta se una cosa ti piacevi ne parlavi se non ti piacevi non la nominavi non la pubblicavi non la mettevi in guida esattamente come facciamo noi con la guida dei vini oggi su TripAdvisor o comunque su qualsiasi altro portale dove si possono fare recensioni esiste anche Google esiste anche Facebook si può parlare bene e si può parlare male e questo se vogliamo ha rotto un po' anche un muro di omertà se vogliamo e quindi il ristoratore si è trovato di fronte anche a delle critiche negative si è trovato di fronte anche ai suoi errori io non considero TripAdvisor il nemico il 99% dei miei colleghi sì io assolutamente no e non perché siamo qua ma perché considero TripAdvisor uno strumento uno strumento per la mia attività e come tutti gli strumenti può essere utilizzato bene e essere utilizzato male ma il problema non è mai dello strumento ma dell'utilizzatore di questo strumento quindi ho fatto anche un grosso lavoro di posizionamento del mio locale per fare in modo di attirare solamente clientela in target clientela in target significa scongiurare la stragrande maggioranza delle recensioni negative perché fondamentalmente il concetto è questo non ci fosse stato TripAdvisor io questo passaggio nella mia attività non l'avrei fatto questo miglioramento non l'avrei fatto e per questo per me TripAdvisor non è il nemico anzi è uno strumento che mi ha aiutato a crescere anche in maniera professionale poi sono arrivate le trasmissioni sono andate le trasmissioni abbiamo avuto la fortuna di essere stati scelti dalla redazione della casa di produzione che produce il programma di Alessandro Borghese che non è Alessandro Borghese ma è una casa di produzione dove ci lavorano 35 persone che fanno la selezione e che sui 225 ristoranti della provincia di Cremona ne hanno scelti 4 e noi siamo stati uno di questi 4 e arriva Alessandro Borghese e io dico nelle mie comunicazioni che fa più lui per il territorio di tutte le APT gli uffici del turismo e agenzie di viaggi messi assieme perché muove centinaia 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 di persone noi peraltro abbiamo avuto anche la fortuna di avere pochissimo tempo da quando abbiamo registrato a quando è andato in onda è passato un mese adesso è passato un mese da che la trasmissione è andata in onda solo sulla tv a pagamento non è ancora andata in onda sulla tv generalista e i numeri sono impressionanti per una realtà come la mia e come la nostra della provincia di Cremona siamo conterrani con il dottor Arichi la trasmissione è nata non dal 13 febbraio quindi dal 14 hanno iniziato a telefonare a venire più 60% di fatturato in 14 giorni rispetto all'anno precedente questi sono i numeri che muove una trasmissione televisiva chi si fida di chi in quel caso in quel caso secondo me il cliente si fida dell'autorevolezza della simpatia se vogliamo di chi questa trasmissione la fa la competizione è una competizione reale ma assolutamente non significativa nel risultato finale a livello commerciale e quindi si vince o non si vince io non ho vinto comunque il ritorno c'è per tutti cosa posso dire di altro non so se voi controvate io volevo solo dire che è vero che ci sono ristoratori che non ci amano per quello che hai detto tu però ce ne sono altre tanti che invece ci amano non è vero che la percentuale è il 99% è che fan più notizie a quelli che non ci amano e quindi non escono poi articoli o non si parla di tutti quelli come diceva Amanda insomma abbiamo comunque livellato il terreno di gioco tutti possono competere ad armi pari non importa il budget pubblicitario non importa quanto sei grande importa solo la qualità di quello che fai e come lo fai e quindi insomma ce ne sono tantissimi che ci ringraziano anche per la visibilità che gli diamo e come hai detto anche tu solo questo se posso noi abbiamo visto i dati generali globali sono un 93% di recensioni positive intanto la prima cosa che dobbiamo dire è questa cioè il numero di recensioni negative sono una assoluta minoranza primo argomento se posso però sono le più lette la prima recensione che leggi di un locale quella negativa io credo però che il problema non sia questo il problema vero è come dire la faticosa presa di coscienza che lo strumento funziona senza che tu possa fare nulla perché questo è un problema molto serio nei passaggi epocali dell'arrivo delle recensioni la vera differenza è che passi da un sistema paid o owned gestito ha una a un media guadagnato earned questo è un problema è un problema che ha consentito a qualcuno di aggirare l'anonimato avendo diciamo visibilità su alcune guide meno strutturate ed è rigoroso il rispetto dell'anonimato dell'ispettore altrimenti davvero non si sa di che cosa si sta parlando ma l'aspetto fondamentale è il ranking il punteggio il vero punto è che io mi vado a vedere quali sono i migliori ristoranti su quello strumento non i ristoranti soprattutto nelle grandi destinazioni noi oggi abbiamo ospitato di là Marina Pasquini e Hotel Belvedere numero uno in Italia numero due al mondo lei è cosciente che non è il miglior albergo d'Italia però la visibilità e l'impegno che ci ha messo per raggiungere il risultato è importante quindi il tema vero e chi ne parla male secondo me purtroppo non fa che confermarne l'importanza perché se lo strumento non funzionasse noi saremmo a parlare del nulla cioè Trippavalido chiude nell'acqua una settimana nessuno legge le recensioni ed è finita invece il tema è che purtroppo o per fortuna la gente queste cose le guarda ci crede e seleziona dove andare sulla base di un giudizio magari a tecnico perché questo è un problema oggettivo io quando parlo della reputazione nella ristorazione dico che è il momento più alto della ipersoggettività percettiva stiamo entrando in una dimensione in cui io e lui possiamo andare a mangiare 20 volte lo stesso ristorante per mille motivi dall'antibiotico a cosa mangiare bevuto un minuto prima avremo 20 esperienze totalmente diverse è interessante per esempio nella trasmissione quali sono le quattro categorie che loro stanno selezionando per giudicare quanto rileva l'ambiente nell'esperienza complessiva è molto più facile nelle recensioni ristorative perché alla fine il core fondamentale della recensione riguarda la qualità di quel che mangio io temo che se chiedo a 100 persone che colorano le tovaglie ai ristoranti di un mese prima credo che la maggior parte non se lo ricordi minimamente come ha mangiato è un discorso di tipo diverso un problema molto serio di differenza rispetto per esempio alle recensioni dell'hotelleria alberghiere perché lì invece la sommatoria di servizi è più complessa e l'esperienza del dormire non è la prima che dovrebbe essere come dire il core della recensione perché come dice qualcuno uno vende sogni quando vai in un albergo se ne sente parlare ma non moltissimo perché c'è molto altro nei ristoranti il tema è più focalizzato ma entriamo in un mondo assolutamente soggettivo quel che è interessante a parte i numeri che lei ci ha dato davvero sorprendenti dell'effetto della trasmissione il tema fondamentale è anche in quel caso lì chi ha vinto l'autorevolezza di Borghese io credo che ci sia anche un po' di interesse rispetto a una sorta di giudizio misteri di competitor competenti però perché in molti casi a parte psicologicamente l'approccio che è divertentissimo che ci sono veramente dei personaggi curiosi però la puntigliosità in alcuni casi del giudizio soprattutto sulla cucina territoriale rende interessante l'approfondimento per un appassionato della materia perché non è come dire io l'altro giorno ho visto una puntata proprio su Firenze il giudizio di uno dei direttori è questo albergo non mi piace perché è bianco insomma non è particolarmente tecnica come valutazione se uno comincia a dire ma qui c'è un prodotto che forse non è le vongole non sono di Goro si comincia a ragionare su qualcosa di un pochino più strutturato abbiamo tempo per fare un altro piccolo giro di tavolo molto volentieri lei mi diceva a un certo punto Michelin entra online mi è capitato in alcune occasioni di segnalare che secondo me l'opportunità di un giudizio autorevole che si somma a un giudizio del cliente sarebbe stata una scommessa interessante da provare a vincere che forse una guida così presigiosa come la vostra poteva fare perché lì il tema vero è metto insieme l'expertise con il giudizio del cliente chiunque esso sia faticoso da tollerare per mille motivi però insomma rilevante dal punto di vista della percezione mi sembra che invece poi si sia optato per tutte le guide su una mera traduzione della guida online insomma di un passaggio la micerencia ai percorsi però sulla parte giudizi siamo rimasti sostanzialmente al modello iniziale no? Sì certo anche perché un giudizio lo dai cioè un'analisi la fai su un certo numero di giudizi no? quelli dei nostri lettori riguardavano un po' tutto perché il lettore anche nel ristorante dove si trovava bene doveva sempre mettere in evidenza un aspetto negativo perché doveva far vedere che era un osservatore ovviamente se su dieci informazioni otto ti parlano male del servizio vuol dire che c'è un problema sul servizio ecco questa era l'analisi che si faceva su le le impressioni che ci mandavano i lettori questo era un aspetto molto importante in una selezione ovviamente dove non c'è non c'è selezione dove c'è questa libertà di giudizio generalizzata queste cose qui non si possono fare la stessa domanda no vabbè intanto volevo intervenire su un piccolo equivoco che però si riplica sempre cioè si parla di recensioni negative recensioni positive ma le recensioni che cosa sono la fotografia di un'esperienza vissuta e non è detto che in quell'inquadratura sia tutto negativo o tutto positivo invece le recensioni vengono interpretate così perché basta un elemento di critica un appunto critico per rendere nella percezione soprattutto del gestore del ristorante quel testo una stroncatura cioè tu dici sei mangiato benissimo era tutto buono ma il polpo era duro non so immaginiamo e quello è sufficiente a far percepire la stroncatura al ristoratore poi bisognerebbe anche parlare del fatto che i critici diciamo militanti non si azzardano mai a fare un appunto critico non si azzardano mai a rivelare qualcosa che non va se ci fate caso sono tutti pezzi ageografici dove sembra tutto meraviglioso tutto straordinario ed è impossibile cioè io giro i ristoranti da 30 anni e posti straordinari e impeccabili forse ne avrò trovato uno quindi bisognerebbe che fosse più professionale la critica andasse più nella profondità dell'analisi e che si avvicinasse un po' di più a TripAdvisor purtroppo TripAdvisor è l'unico strumento che uso anch'io cioè io i miei colleghi non li considero neanche vado lì tolgo la testa e la coda cioè le lodi sperticate e gli insulti che mi sembrano poco utili guardo le foto come dicevi tu più che dei piatti degli scontrini di dati oggettivi e mi oriento su quello perché ripeto non è la critica militante che ci può dare delle indicazioni vere perché è fortemente compromessa basta guardare andatevi a vedere tutti i maggiori critici italiani e le loro foto su Facebook e li vedete abbarbicati come tendaggi agli chef più importanti è possibile che li giudichino poi? io non credo mi sembra una visione molto molto interessante un'ultima battuta anche per lei se vuole ma volevo aggiungere parlo di recensioni negative positive discorso dei pallini ovviamente secondo me TripAdvisor è uno strumento bellissimo l'online è uno strumento bellissimo e risponde a due esigenze molto basilari della natura umana soprattutto in Italia il successo di TripAdvisor secondo me è perché è un enorme bar sport è dove prima andavi a dire al tuo amico sono stato a mangiare là adesso lo puoi dire ma lo legge tutta Italia il grande successo di TripAdvisor è questo che dà la possibilità di estendere il proprio giudizio a un pubblico chiaramente vastissimo e concludo con questa con questa cosa io dico sempre ai miei colleghi che si lamentano nei TripAdvisor ma guarda che tu devi essere onorato di avere ricevuto una recensione positiva o negativa devi essere onorato che delle persone abbiano impiegato del loro tempo per scrivere di te perché non esiste scusate se c'è qualcuno qua dentro il TripAdvisor dei gommisti esiste il TripAdvisor dei ristoranti esistono i recensori che fa critica di ogni opera d'arte ci sono i critici d'arte del cinema del quadro se qualcuno critica o giudica il tuo piatto perché reputa il tuo lavoro una forma di espressione di arte sì un minuto really really quickly I just wanted to devalidate your point actually thank you very much I realized that we are very controversial and not necessarily make everybody happy and I do agree with that but one thing that's extremely important is to know that 93% of people who where you responded as a restaurant view the entire process negative and positive in a different light so whether you had a negative review and you reply in your defense that my dear I miss you is this way because my mother told me that that's the way the recipe is or whatever you're arguing or the person is claiming they didn't like just as much as if they had a great experience and you say thank you for the great experience what did you like and what can I do better and people 93% change their view and choose to view that restaurant in a different light after that experience so I think that's also very very important that your voice is the last voice they hear thank you ok thank you bene il tempo a nostra disposizione è completato io devo dire vi ringrazio davvero tutti perché molte delle cose sono state coerenti e soprattutto in sintonia mi ricordo con Roberta avevamo fatto un tempo un pezzo che si intitolava non accetto sogni dagli sconosciuti forse il vero tema forse in una sviluppo futuro sarebbe più interessante per grandi piattaforme come TripAdvisor riuscire ad avere un'ottima profilazione del recensore per capire se i gusti di quello che sta giudicando sono minimamente simili a quelli che mi interessano ho lavorato per quattro anni nel pieno centro di Roma io vi garantisco che trovare un ristorante di cucina tradizionale romana nel centro di Roma con i flussi di turisti che c'è non è proprio una scommessa facile e molti dei punteggi non mi trovano proprio completamente allineato ognuno di noi ha i propri gusti è giusto che sia così forse sempre di più bisognerà andare verso una customizzazione del sistema delle recensioni e delle guide trovando semplicemente il miglior standard di qualità che noi percepiamo simile a quello che ci interessa in modo da selezionare un po' di giudizi grazie ancora a tutti e grazie della vostra attenzione grazie a tutti